Dietro alla recente crisi del Comune di Viareggio, risolta peraltro velocemente con un robusto cambio di assessori, è emerso un serio problema che riguarda un po' tutti gli enti del nostro Paese e che è stato discusso in un vivace confronto politico proprio nei nostri studi. Ecco, un problema in qualche modo sorprendente che va ben al di là delle stesse logiche di partito. Si tratta del Codice degli Appalti che, secondo la legge 163 del 2006, riconosce ai tecnici dipendenti degli enti pubblici una percentuale fino a un massimo del 2% del valore sulle opere appaltate. Una legge pensata a suo tempo per risparmiare soldi in modo da non assumere tecnici esterni, ingegneri, geolici e quant'altro, e che poi in realtà può produrre effetti negativi ed opposti. Quali? Anzitutto l'incentivo, nella sua globalità, diventa una somma consistente e sottratta alla comunità. E poi non si capisce perché si debba premiare un funzionario pubblico che compie il proprio dovere, che peraltro ha già una busta paga del tutto rassicurante. E infine, chi quella busta paga non la vede da tempo, che cosa deve pensare?